Poco dopo le 21 sul megapalco sotto le mura entra in scena la leggenda del rock, i Rolling Stones, in una notte inimmaginabile solo fino a pochi mesi fa a Lucca, l'unica tappa italiana del loro tour europeo. Davanti ad oltre 50.000 persone che hanno gremito l'ex campo Balilla, è andato in scena il concerto più partecipato della storia recente della città. E ad impressionare è stato soprattutto il 74enne Mick Jagger, grazie alla sua innata capacità di uomo spettacolo e a una voce ancora incredibilmente limpida. Jagger e la band hanno riproposto gran parte del loro repertorio storico e il cantante si è più volte rivolto al pubblico in italiano. Ciao Italia! Come stati tutti? Questa è la prima volta che suoniamo in Toscana? Ad assistere al concerto, a quanto riportato dalla stampa e alla cena di gala, erano presenti tra gli altri l'attore americano Richard Gere, l'ex modella Naomi Campbell e il re del rock italiano Vasco Rossi. Alla fine sono stati gli stessi Rolling Stones a ringraziare la città dalla loro pagina Facebook. Grazie Lucca per una notte incredibile!